Dove ne farvi vedere? Allora, facciamo una prova, allora Adesso canterò questa cosa, non si sente più la chitarra, ok grazie L'applauso al fonico, il grandissimo Poi dopo ti ringrazio bene Allora, questa prova, no perché poi lo sono potuto fare Poi dopo la facciamo bene con la band, però per coinvolgere il pubblico, no? Perché così, perché voglio dire ragazzi, non scherziamo Oggi siamo nel 2015, uno, due, tre, quattro, vuol dire quattro like in più nella mia pagina fan di Facebook E non è poco Sei sicuro? No? Vabbè Allora, le vedete le visione? Allora, facciamo questa prova Proviamo un attimo per fare questa cosa Allora, io farò, allora ci sono degli stacchi, io farò questo Ok, vai Sì, devi sparare Ok, vai E lì, mi faccio che sia una cosa fantastica Madonna mia, ragazzi, un applauso veramente per la pazienza Ok, allora Come ti chiami tu? Vabbè, io ti conosco Camilla Allora, pensate che lei è venuta direttamente dalla Francia per riscrivere al concerto, eh? Un applauso Facciamo questa prova, sai suonare quello? Allora, inizialmente è contrario Ok Fai una prova al microfono, vai Oh, non so qual è la cosa Non so qual è la cosa? Niente, non funziona No, scherzo Devi farlo così Così Tu non sapre se è una cosa di... Ok, dai lì di sole Vai, chi sta a suonare il cazzo Vai, vai Vai Parichissime ragazzi, una cosa pazzesca Guarda, facciamo una brava Voi due, vai Hai inventato un altro strumento Vai Benissimo, scendete dal palco immediatamente No, sto scherzando ragazzi, sto scherzando Bene, non il potere Ok, voglio soltanto coinvolgere Ok, il video faccio Guarda, guarda che bel sole Mamma, ti raggi un cestino Che oggi si gioca a pallone Mamma, mamma, guarda che bel sole Oggi, oggi mi compro le scarpe nuove Guarda, guarda quei muri Guarda Brava! Andiamo avanti così fino a qui Non funziona un piano Allora, ok Facciamo questa prova Io faccio tutto la mia strada Proprio dopo di giro che vi faccio suonare Ok, voglio solo coinvolgere questa canzone Ok La canzone si chiama Cazzone Stupida Se conoscete tutti è benissimo Cazzone Stupida, no? Come fai il ritornello? Cazzone Stupida Che non vuol dire niente Mamma mia ragazzi Sto lasciando le lacrime Ok, quindi facciamo il ritornello Cazzone Stupida Che non vuol dire niente Che non vuol dire niente? Che non vuol dire niente Anzi la musica ricorda un po' E tutta quella gente Allora, stiamo per concludere questa cosa Perché non so più che cosa fare Allora, stiamo provvisando tutto Non so più che cazzo Ok, quindi facciamo un finale Grazie, grazie a tutti E giuro che mi ti porto in giro Sempre, sempre Un applauso a Camilla Lui non mi ricordo che sia Andrea, Andrea il pistolero Nadia Michela Un applauso a loro Grazie, grazie veramente di cuore Per questa cosa senza senso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti